Ah dai ma non è possibile, mi hai battuto di nuovo Grazie ai trucchetti che mi ha insegnato Glitter Li ho dovuti sapere da lei e non da te, ti piace troppo vincere eh Claudio? Ah vabbè dai, no è che mi sono dimenticato di dirteli tutto qui Perché te già li sapevi e niente, poi hai perso la memoria Vabbè, comunque quindi due Glitter siete amici eh? A quanto pare sì, mi sono ricreduto su di lei dai Beh, meno male, non ce la facevamo più a sentirvi litigare Sì, infatti, mamma mia, che borda è lo Ragazzi, ma quindi, no, già che siamo tutti qui Ma chi tra voi ha prenotato alle meraviglie? Eh? Che? Dai ragazzi, non ditemi che non avete letto la notizia sul blog di Nobu Su Cioccolata è Verità c'è scritto che qualcuno ha invitato una super fortunata Alle meraviglie che è il ristorante più sciccosissimo della città Eh, senti, io prendo una paghetta veramente misera Quindi figurati se ce la portavo io E vabbè, però puoi aver messo qualcosa da parte Ma per favore, dai Mike, su di te ho qualche dubbio? Solo che non so chi potresti portarci Se Glitter, se Nebula, se Sabrina Hai decisamente troppe opzioni Eh, io non so nemmeno di cosa state parlando E onestamente non mi piacciono i ristoranti di lusso Eh, proprio quello che direbbe una persona per sviare i sospetti Eh? Stanno parlando della cena alle meraviglie Secondo te chi ci andrà, Mel? Eh, non lo so Pensi sia stato Claudio? Insomma, lui è così romantico Claudio? Non penso, no Insomma, sì, è romantico Ma solo ultimamente Che il nostro rapporto sta andando avanti Ma ti piacerebbe? Beh, certo che sì Ma vabbè, te continuo a fare directive Io vado in bagno Le meraviglie È un ristorante super siccoso E sarebbe di sicuro una serata romanticissima Insomma, quale ragazza non piacerebbe? Ma comunque, non vedo proprio perché tutto questo scalpore Voglio dire, basta chiedere al nostro padre Sicuramente ci trova un tavolo Potremmo andare io e te alle meraviglie Ma dai, Mimi La cosa bella di quello che ha scoperto Novo È che un ragazzo qui in città Sta facendo una super sorpresa alla propria fidanzata Chiederlo a qualcun altro non sarebbe la stessa cosa Già Buon pomeriggio, ragazze Buon pomeriggio Stiamo cercando un abito molto elegante Per un'occasione davvero speciale Oh, sì, in effetti è proprio quello che stavamo cercando Come fa a saperlo? Oh, perché oggi tutte pensano di essere la fortunata Che andrà a cena alle meraviglie Non avete idea della fila che abbiamo avuto in negozio tutto il giorno Ok, beh, quindi spero che quello che avevo adocchiato io Non sia stato preso Ciao, Marin Ciao, Marin Ehi, ragazze Anche voi qui Ve l'ho detto Sono tutte qui per comprare un abito elegante Oh, nessuno vuole arrivare impreparata Ma scusate Ma questa cosa Arriva tipo lettera da Hogwarts Cioè, voglio dire Una figliola si dovrà pur preparare Cioè, sto ragazzo Che ha invitato questa ragazza, no? Quando si spiccia a mandare l'invito No, non c'è bisogno dell'invito Sappiamo tutti che è Mike Che ha invitato me Quindi State veramente facendo tutta questa fatica per nulla Non è giusto È quello che volevo io Abbiamo tanti altri abiti eleganti Guardi, ad esempio c'è questo E... No, volevo quello rosso Dai, Marin Ce ne sono altri Glitter Senti, tu devi assolutamente provare questo quarancione Quello non l'avevo visto Perché a me non l'hai consigliato? Eh, perché secondo me sta bene a glitter E... Oh, ok Lo provo subito Anche se, ecco Io non penso di essere la fortunata Che andrà alle meraviglie Ma... Lo provo Sì, sì In realtà, diciamoci la verità Cosmo e Nebula sono umili Ma non dimentichiamo che sono nobili Secondo me è l'unico che può permettersi Un posto A quel logale E soprattutto Cosmo è super romantico Con glitter Ah, è quello che penso anch'io Jenny Ci andrà sicuramente glitter Beh, potrebbe invitarmi anche Nobu Ma Nobu ha già detto che non ti ha invitata Che lui non gli spenderebbe tutti quei soldi Beh, è quello che direbbe una persona Che non vuole farsi scoprire Bah Io sono una detective Ti dico che non è quello che direbbe La persona che vorrebbe farci scoprire Ok Allora, che ne pensate? Ti sta malissimo Eh, grazie Sabrina Per me ti sta molto bene Nebula, perché non ne provi qualcuno anche tu? Io? Eh, che mi inviterebbe mai? Eh, io Danny Eh, cioè Eh, sì, vabbè Qualcuno Qualcuno a cui piaci Qualcuno magari con cui ti sei baciata Così così, insomma Io non oso immaginare la vostra delusione Quando scoprirete che la persona che vi piace E quel vostro ragazzo non vi ha invitate Spero tanto che non ve la prenderete con loro Certo che no Forse Ciao Mimi Ciao Melanie Ciao mamma Come ti senti? Ah Sempre più stanca Ogni passo che faccio Sono passata solo a prendere una cosa Vostro padre vuole vedermi Ah, come mai? Dovete ancora parlare di Mike Sta bene ormai Eh, sì Penso voglia vedermi per quello Non so Non è stato molto chiaro E se il nostro padre Avesse invitato Mamma alle meraviglie? Impossibile Melanie Loro sono divorziati Beh, ma E se papà Se papà Si fosse innamorato di nuovo di lei? Oh Questo sarebbe un bel guaio Sorella Perché Nostra madre ora sta con Cesare E Ciao ragazze Allora Ho visto la macchina di Clara Che sta in casa Oh, sì Cesare È È nella vostra stanza Ah Perfetto No, perché Sapete che è? Che ormai passa più tempo con vostro padre Che con me Cioè Mi devo iniziare a preoccupare Potrebbe essere lui Potrebbe essere lui Melanie Più ci penso Più potrebbe essere lui Ma dai Nobu Tu sai chi è? La fortunata Perché non vuoi dirmelo? Sono tua amica Certo Così poi andrai a dirlo a Sabrina Quindi è Sabrina Mike ha invitato lei? Non ho detto questo Sei tu vero Cosmo? Eh? Eh? Hai invitato Glitter Hm? Eh Nobu mi ha detto di non dire niente Oh Ma dammi almeno un indizio Beh Vediamo Allora Stando al sondaggio sul blog L'unico indizio che posso darti è Chi? No 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 Non posso dirtelo Oh Che rabbia Ciao Jimmy Puccio Eh spero di non essere in ritardo Eh no Mio piccolo unicorno Giusto in tempo Eh mi hai mandato Sai quando mi hai mandato un messaggio Dicendo che Eh stava per pattorire la capretta Eh di venire subito Sì sì infatti Eh Non mi aspettavo ti mettessi così elegante per un'occasione del genere Ma mi fa piacere che sia importante anche per te Eh Eh Ma scusa Jimmy dove stiamo andando? Oh oh Alle stalle Ah Eh vuoi tenerti in gioco fino alla fine? Eh va bene Sì andiamo alle stalle Va bene Ok Ciao Jimmy Ciao Maddy Ma siamo davvero alle stalle? Beh certo Carolina si trova qui Ah Jimmy si è arrivato giusto in tempo Sta per nascere Ah che bello Non sei emozionata Candy? Ah ma davvero sta nascendo la Sì 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 Manca pochissimo Oh E questo cos'è? Quello è pupù di maiale Ah Ok Benissimo Ehi Cosmo Ciao Stai Ancora studiando? Eh Sì Glitter Ti Ti dispiace? Oh No Affatto Anzi Sai cosa ho pensato? Visto che Stai passando così tanto tempo in biblioteca Eh Magari Posso studiare con te Sarebbe fantastico Glitter Claudio Si può sapere dove mi stai portando? Aspetta Senti Mel A me A me dispiace Ma io Io una cena alle meraviglie Non me la posso permettere E Cioè Vedi il massimo che te posso offrire Tipo il marshmallow con le pannocchie Oh Claudio E E poi Ecco Ho pensato Vabbè Magari la porto in un posto Speciale Che Non sarà così alto locato Però Vi è qua Ma Ma Wow Ma sono lucciole Non le avevo mai viste Sì E Ecco Io Volevo dirti Che Per me La meraviglia Cioè Tutte le meraviglie Messe insieme Sei tu Mel Oh Claudio Non mi serve Una cena A un ristorante stellato Per sapere che mi ami Questo Questo va ben oltre È così Magico Uffa Ancora nessuna storia Ancora niente Non mi contatta Maghi È stellina Cioè Nebula Capite Deve essere invitata da Mike Secondo me è lei Però Cioè Allora Sì Io fossi andata alle meraviglie No L'avrei fatto una storia su Instagram Tu Sì Sicuro Magari gli altri Si vogliono semplicemente Godere il momento Ah E Però io gliel'avevo detto L'avevo detto Nebula mi raccomando Se vai Fai la storia Hashtag Principessa Hashtag Le meraviglie Niente Niente di niente Ah Principessa Principessa Voi dovete punzare A far vizzazzare Da regine Ecco Come dice Big J Vabbè No no Da qualche parte Dobbiamo iniziare Primo principessa E poi si diventa regina Pura ragione E tu dove vai? Oh io vado a mangiare Una pizza con Ricky Una pizza Sai com'è Ci sono persone Che restano umili Ma Ma Cioè Voi è il romanticismo Proprio Da un'altra parte Ma c'è da male Da mangiarsi Una pizza Non ho capito E dià Nono Però è bello Che il fidanzato Ti invita A un ristorante Ti metti il vestito Ti fai le storie Ti fai le cose E poi è tutto romantico E poi mangi bene Perché la pizza Non è buona Fammi capire Quando stai bene Con una persona Jenny Il luogo Non è importante Tu puoi anche stare Qua su divano Ma sai Quanti anni Ho passato Con tua nonna Su questo divano E credimi Siamo stati felicissimi Però comunque Nebula Mi deve contattare Mamma mia E quant'è alta Sta pizzeria Ma 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 Ricky mi ha inviato L'indirizzo giusto One elicotter Questo per fare Le consegne A domicilio Veloce Mi sembra un po' Eccessivo Mamma mia Ehi Gennarino Ricky Ma Ma cos'è questa pizzeria Cioè non ci siamo mai stati Ma è bellissimo Ah beh Questa non è la pizzeria Gennari Questo è Le meraviglie Cosa Cioè Tu 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 Ah ok Scusate Sembra un telefono Occupato Ma Ma tu sei pazzo Mi hai fatto venire Le meraviglie Deci a battire Romare Gennarino Dai Non fa niente Cioè A me piace così Eh Intanto tu il vestito bello Te lo sei messo Vabbè Ma perché Me volevo fa bello Eh Dai Su Accomodati Wow Hai visto Si vede tutta Rainbow City E ti assicuro Che si mangia benissimo Che forza Wow Jenny muore No Jenny muore Ricky So che non te lo chiedo mai Ma Possiamo fare una storia Per Instagram Ma certo Ciao Agnew Guardate dove mi ha portato Quel pazzo Del mio ragazzo Oh Candy Ecco Ti rispondevi ai messaggi A monosillabi Allora Mi sono preoccupata Ma non avevi già mangiato Un gelato Oggi E' E' Questione di emergenza Ehi Amica mia Che cosa è successo Ehm Non l'ho detto a nessuno Glitter Ma in realtà Speravo Che Che Jimmy Ecco No Che ti invitasse Alle meraviglie Sì E' Ecco E' anche brutto Il fatto che Nessuno abbia pensato A noi Ed effettivamente Ecco Non lo so Glitter Non penso che Jimmy Mi ami Abbastanza Ma Candy Lo sai meglio di me Non sono questi gesti A misurare l'amore Che prova una persona Per te Insomma Vedi Nemmeno Cosmo Mi ha invitato Eppure siamo stati bene Insieme Lo so Però E' difficile Perché vedo tutte voi Con i vostri ragazzi Non so Sembrate tutti super affiatati Mentre io e Jimmy Boh Parlani con lui Non lo so Penso Penso che dovremmo lasciarci Cosa? Tu e Jimmy? Oh Candy No 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 Dobbiamo assolutamente parlarne Vedrai che si risolverà tutto Non penso Vedrai che si risolverà tutto Vedrai che si risolverà tutto